MCD Logwood cantante di notevole carisma ed esperienza accompagnata da Maurizio Pugno eclettico musicista del panorama bluso europeo Alberto Marsico e Gio Rossi salgono sul palco di Enoteca del Jazz a Molfetta sabato 23 marzo 2013 alle ore 20 e 30 unica data in Puglia nata a Oakland in California con il nome di De Ioana R. Logwood in arte MCD e cresciuta musicalmente nella Baia di San Francisco tra gospel e R&B comincia a esibirsi come Little D per il vicinato cantando canzoni popolari Influenzata artisticamente da sua madre Roachon Hammonds una delle migliori pianiste e arrangiatrici californiane per quanto concerne il gospel finirà nei 15 anni successivi a collaborare con diverse personalità della scena americana tra i quali Ralph Brown e incidendo il suo primo album Real Real Soul nel 2005 ed effettuando numerosi tour mondiali che l'hanno vista ospite nei migliori festival jazz e blues del mondo comprese tre edizioni di Umbra Jazz quindi appuntamento a sabato 23 marzo 2013 alle ore 20 e 30 presso Enoteca del Jazz dove gli artisti rilasceranno un'intervista in esclusiva per noi grazie a tutti Grazie a tutti.